Business dei rifiuti, Cremona la fa da leader. Qui le imprese iscritte a lago gestori ambientali sezione Lombardia sono in tutto 1114 come Alecopa, Via e Mantova. Sono aziende che si occupano di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi o derivanti solo alle proprie produzioni, intermediazione e commercio, bonifica di siti e beni contenenti a mianto. E' quanto rivelano i dati ISTAT relativi al 2017 e al 2016 da poco elaborati dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianze e Lodi. A Cremona nel giro di un anno l'import dei rifiuti ha registrato un più 65,4%, l'export un più 3,4% con un intrascambio di prodotti cresciuto tra il 2016 e il 2017 del 63,4%. E' la percentuale nettamente più alta rispetto a tutte le altre province lombarde, molto più la media regionale attestatasi al 29,5% e di quella nazionale ferma addirittura al 20,2%. La Lombardia da sola concentra il 39,4% del totale nazionale dell'interscambio di prodotti, dell'attività di trattamento dei rifiuti e del risanamento. Per gli import i maggiori partner sono Germania, Francia e Svizzera da cui provengono i rifiuti, l'export invece va in Cina, più 43,7% seguita da Germania e Spagna.